Da Gianluca Pascucci a Giorgio Ciaschini, da Matteo Panicchi a Matteo Giunta. A Palazzo Montagnantaldi si accendono i riflettori sullo sport dietro le quinte. Secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati da Fisioclinic del Dottor Piero Benelli, medico della VL e della Nazionale Maschile di Volley, che sabato 4 maggio dalle 17 sarà di nuovo protagonista nel far emergere le eccellenze sportive nate nel nostro territorio e salite alla ribalta mondiale, fornendo lavori preziosi all'ombra dei successi degli atleti protagonisti. Cinque personaggi dietro le quinte dello sport che si declineranno nelle loro storie di successo per basket, calcio, volley e nuoto in una tavola rotonda moderata da Sara Spadoni, ex atleta di nuoto sincronizzato. Sia per quello che riguarda il sport di squadra, appunto, che quindi del lavoro di team, che anche nello sport individuale c'è un grandissimo lavoro psico, fisico e mentale da parte di tutti quelli che possono essere allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, mental coach o comunque scouting, che vanno pochettino ad agire a 360 gradi su tutto quello che è lo sport e l'attività dell'atleta, in questo caso di alto livello. Grazie. Grazie. Grazie.